ciao ragazzi oggi vi parlerò di Breitling e qui con me ho un catalogo del 2003 dove andremo a vedere qualche curiosità nel frattempo queste erano le linee che erano disponibili su Breitling nei primi anni 2000 vediamo anche qualche curiosità per esempio questa chiocciola che state vedendo al centro dell'ingresso di un motore aeronautico questa è la parte anteriore della ventola si chiama spirale come la spirale degli orologi serve come warning visivo al personale di terra per vedere se proprio se il motore è in funzione andiamo avanti questo è l'aerospace la parte solo tempo diciamo questo era l'orologio di Axel Rose dei Guns N'Roses magari una volta lo vedremo anche insieme un orologio leggerissimo perché in titanio andiamo avanti il Breitling emergency particolarità che andando a svitare questa corona si tira una funicella che trasmette inizializza il una sorta di messaggio di emergenza per il recupero vedete c'è un piccolo sinottico qua che ne descrive anche il funzionamento da utilizzare soltanto in caso di emergenza una curiosità un po controversa è che questo è l'orologio che aveva al polso Guido Foresti amico di Vittorio Missoni durante l'incidente aereo allo Slocas nel 2013 però purtroppo in quei in quei momenti non ci fu forse il tempo di attivare questa segnalazione e andiamo avanti andiamo a vedere quelle che erano le linee classiche arriviamo al crosswind questa è la mia serie preferita del cronomat che vi farò vedere eccolo qua e di fatti poi l'adozione di un dei numeri romani e una grafica un po' più accantilante all'interno dei contatori ecco dava luogo a questo orologio molto bello con codina di compensazione perché arrivando poi al cronomat che vi farò vedere e questa è il catalogo dei cronomat dei primi anni 2000 è cambiata la codina di compensazione la vedete in questo punto perché l'orologio nasce nel 1984 in collaborazione con la pattuglia acrobatica acrobatica nazionale le frecce tricolori ma poi nel tempo furono variati gli orologi e per questo che si trova sui fondelli la vista frontale di un mb339 ermachi che è loro il velivolo tutt'oggi ancora delle frecce tricolori e questi sono gli orologi orologi che costavano 3.300 euro eccolo qua questo è proprio uno di quelli che vi ho mostrato a catalogo orologio veramente bello che vuole essere così usato per volontà sembrerebbe che ci siano dei gap che hanno creato questi ecco questo spazio fra le maglie ma è un orologio che è proprio realizzato in questa maniera può darsi per avere maggior comodità durante l'utilizzo la cassetta un contro fermaglio ecco come vedete normalissimo questo è l'orologio al polso è veramente molto bello orologio da 39 andando la misura abbiamo un 39 mm che è un 36 sull'interno ed è realizzato con una scala tachimetrica come vedete a rilievo sul reo che in alcuni casi viene rimossa insieme al quadrante in altri casi rimane all'interno a seconda della serie con la codina di compensazione bretling come vi dicevo poc'anzi questa è la parte posteriore non troviamo più l'mb339 come una volta troviamo il simbolo di bretling e in alcuni orologi è possibile che non troviate neanche il simbolo di bretling all'interno sulla massa oscillante perché sono orologi che come quota come quotazione potrebbero avere qualcosina in meno rispetto ad altri orologi per esempio qui è una c'è una massa oscillante che non è incisa ma è marcata con quindi marcata inchiostro con le iniziali e il logo di di bretling i cavalieri sono riportati su questa configurazione una lunetta che insomma qui abbiamo un anello con tre spring click ricavati all'interno dove fanno da fermaglio direttamente sulla cremagliera non è un sistema iper preciso però diciamo che è funzionale in efficienza la corona è sempre una corona a seconda delle configurazioni che può essere placate in oro come in questo caso e la chiusura è a vite per avere 100 metri di tenuta questo è invece il competitor di quegli anni il polpico u bot che stiamo vedendo è un orologio che è nato viene riportato a catalogo nei primi anni 90 90 91 la particolarità era insomma era sempre non dico un best seller come il bretling cronomat però sicuramente erodeva fette di mercato anche perché era molto particolare guardate l'inserto ghiera è fisso e quello che ruota è la ghiera ora la particolarità invece era che questo cavaliere anche qui abbiamo un cavaliere come i bretling questo cavaliere in oro è tenuto da due viti in titanio quindi c'era già ricercatezza nel nell'adottare dei sistemi che avessero dei criteri anche di robustezza su questi orologi il calibro nonostante abbia un layout 12 6 9 con secondi continui ore 9 è un le mania di fatti lo vedete anche dalla sfera crono secondi che ho fatto partire in questo momento che lascia poi scoperta la sfera crono minuti è una sfera crono minuti progressiva quindi non è con salto semi istantaneo e difatti notiamo muovere poi sopra abbiamo invece la parte relativa il conta ore che identifica proprio le ore della giornata questa è la differenza sostanziale abbiamo poi una corona che sempre a vite permette sempre 100 metri di tenuta su questo orologio con hacking dei secondi e questi sono i polpico veramente belli devo dire di quegli anni che erano utilizzati andiamo a chiudere perché ecco le dimensioni di questo esemplare sono 39 quindi è un 40 netto però veniva dato per 44 perché si considerava l'aspetto diciamo della cassa comprensiva della corona mentre sul bretling cronomat anche più o meno abbiamo un 42 andiamo andiamo a vedere come performa questo orologio guardate che roba 334 e vi dico che questo orologio ha toccato anche guardate 342 ha toccato anche 347 a 350 gradi di amplitudine un orologio che è stato appena revisionato grandi dati per un 7750 andiamo a cambiare un po' marcia guardate 345 non ci sono neanche grosse variazioni il 7750 che avete visto per formare alla fine è sempre una garanzia in termini di affidabilità guardate invece oggi la linea crono di bretling cronomat guardate cosa offre le proporzioni sono diverse vediamo su questo esemplare forse una cassa un po più affinata longilinea rispetto ad oggi perché se ecco tolgo questo sembrerebbe che le proporzioni siano più simili al colt ecco ve lo mostro subito ecco guardate il colt colt crono la particolarità è che la cassa è molto larga rispetto a quella di un bretling cronomat e questa è quella famosa una proporzione che dico sempre del rapporto fra il diametro interno netto e il diametro esterno della cassa ovviamente qui abbiamo due calibri che sono lo stesso lo stesso motore sui bretling cronomat moderni c'è un rapporto sempre diverso quindi molto simile a quello del colt che va poi ad essere rastremato con il suo bracciale una rastremazione forse fin troppo eccessiva però dovrei vederlo per rapportarlo poi agli orologi che un tempo erano i best seller proprio degli anni 80 90 inizio 2000 prima che fosse poi interrotto ovviamente la produzione per questo esemplare bene ragazzi io vi ringrazio vi invito a mettere un like se questo video vi è piaciuto di condividerlo e ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti